Sì, c'è tanta voglia e siamo pronti. Adesso ci buttiamo, ci tuffiamo in questa avventura e cerchiamo di prolungarla il più possibile. I play-off sono questi, sono gare dentro e fuori dove si affrontano squadre, soprattutto nei primi turni che ci sono equivalci durante il campionato e quindi ci possono stare anche partite così. Più avanti vai e più i valori poi escono. Dobbiamo partire da un punto consolidato, quindi resettare ma con la consapevolezza di aver fatto un passo in avanti, quindi una sorta di araba-fenici. Come sta il gruppo? Lo visti molto bene i ragazzi, quindi domani faremo una partita importante.